Sarebbe stata costretta a subire per diversi anni abusi sessuali e violenze fisiche di ogni tipo perché innamorata del suo stesso Aguzino. Una donna che ha adesso più di 30 anni sarebbe stata irrigata da Michael Doon, un 57enne, dall'età di 14 e per 21 avrebbe subito violenze di ogni tipo. Mi sono pian piano affezionato a lui, io avrebbe detto la donna. Alla fine mi sono innamorata. Per tale motivo ho sopportato tutto il male che mi veniva fatto. La donna che viene da Cleveland ha cercato di spiegare i motivi per cui non ha denunciato ancora il suo stupratore. L'uomo avrebbe orientato tanti ragazzi e le avrebbe tenute segregate nella sua abitazione per eludire ogni tipo di controllo. Aveva ricavato anche una cavità nel retro del frigorifero in cui per l'appunto occultava le sue stesse vittime, e le fanciulle spesso molto belle in difesa e che poi venivano violentate dal suo uomo in quest'anno. Grazie per l'ascolto e vi termino. Un saluto a presto, questo sarebbe quanto.